amore non ho fatto posta ma quando l'ho messo sotto quando siamo arrivati ti ricordi che ti ho detto che non mi ricordavo più si vabbè adesso 0 0 0 non va ma io l'ho messo sotto il letto aperta poi ti ricordi si è chiusa ma io non me lo ricordo il codice per me era 0 0 adesso da calboccia come facciamo dove mettiamo tutti i vestiti dai che alle 10 e mezza arriva la macchina 3 mili combinazioni posta che la mattina come facciamo vado a comprare una valigia e questa la buttiamo via ma ascoltare con i liberi io mi spacco le unghie dentro tra ma comunque la bottiglia perché poi non lo usiamo da nessun'altra parte a tanto vale andare a comprare la nuova lasciamo qua nel verbo ma non l'ho chiusa io l'abbiamo chiusa insieme se no allora vuoi cercare la prova no no non è il caso non è proprio il caso bravo 963 169 che vale tre numeri allora tre numeri per 0 che fa fai a